Bentornati, nuovo appuntamento di SOS Aghezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Ciao Fabio, si è fatto freddo? E' un po' delicatina di salute, attento. Io sto benissimo col freddo, ti invece vedo che ti devi mettere un cappellino. Mi rompi tanto le scatole, mettimi il cappellino, però purtroppo non ci entra a fare, l'età avanza e quindi bisogna coprissi bene la testa. Dopo l'intelligenza ti esce e dopo la disperdi nell'ambiente. Ecco, ti si fredda. Senti un po', qui siamo alla scuola materna dell'Orciolaia. Perché? Che cosa succede? Perché è successo che dopo il fortunale che è venuto l'anno scorso di luglio e alcune piante erano pericolanti sono state tagliate. Sono state tagliate, però a livello sono rimasti alcuni centimi circa 10 centimi da terra e purtroppo si è verificato che i bambini ci cadono. E' stata cessa l'amministrazione di toglierle, quindi basta una carotatrice per togliere, oppure una ruspa che viene qui addirittura, porta via tutto e poi rimette a posto, però dice che ci vogliono mille euro e il comune non ce l'ha per fare questi lavori. E quindi qui rischiano perché un bambino ci è già caduto e si è fatto male, quindi si rischia che qualcuno si faccia male. Non ci sono i soldi per una cosa di sicurezza? Eh, infatti, hanno una cosa di sicurezza perché purtroppo sai come sono i bambini, sono vivaci, corrono, si rincorrono, magari non se ne accorgono, non lo vedono, inciampano e cadono. Infatti un assessore non so chi e gli ha detto che purtroppo ora adesso non c'era i soldi per fare questo lavoro, ma che dopo ci sono i soldi per rimborsare qualcuno che si fa male per davvero. Sarà peggio quello, no? Eh, non lo so, poi sono bambini, non è che sono persone adulte. Sarà peggio rimborsare quello. Sarebbe il caso di intervenire e di far sì che appunto questi ostacoli venivano rimossi e alla svelta. Ma quanto costa i casi? Ha detto mille euro ci voleva. Per chi muove? Se c'erano imprese che per mille euro glielo faceva. Quindi, ho detto, ci sono le carotatrici che portano sotto il livello della terra il tronco rimasto oppure sono con la ruspa, lo portano via completamente con pese da radici. Non lo so, qui se conviene fare l'uno o l'altro, comunque sia, gli ha detto che una ditta con mille euro glielo faceva. Insomma, quando si parla della sicurezza dei bambini sarebbe opportuno. Però sai, tu mi insegni che i bilanci non sono sensibili, nel senso, però si può trovare mille euro, si può trovare. Decine di mili euro, si può trovare, si può trovare. Mille euro sono niente. Vabbè, basta, ci vuole un po' di volontà per farlo e poi un po' di sensibilità perché si tratta di scuole materne dove ci sono i bambini. Quindi penso che sia importante mettere in sicurezza. E allora non ci resta come nostro solito che chiamare l'assessore competente nelle prossime puntate, l'assessore competente che magari ci spiegherà se questo intervento si può fare, se non si può fare e se non si può fare però perché non si può fare. Quindi vai. Vado. È una donna l'assessore? Perché stiamo parlando dell'assessore alla scuola o dell'assessore alla manutenzione? Allora, l'assessore alla manutenzione, penso che sia viciosino da quello che ti interessa meno. L'assessore alla scuola chi è? L'ucia a tanti. L'ucia a tanti, quindi. Cioè, ma l'ucia a tanti deve far tagliare i stalberghi. Non lo so, l'assessore alla scuola... Cioè, deve tagliare, rimuovere i... Dovrà chiedere all'assessore alla manutenzione di fare questo lavoro. Va bene. Quindi tutti e due sono interessati. Va bene. Allora, chiederemo. Chiederemo. Vai alla svolta. Andremo. Poi ti ritorno. Va bene. Ok. Ciao. Ciao.